non c'era anch'io ma capace che guarda guarda che cosa bella deve adesso tu guarda qua a sinistra la rotellina che sta salendo la vedi quando arriva in cima ci butta giù ok non te non posso fare panciare il premio per prendere la parte era solo il pack a punch lol lol omg vedi che sta arrivando sulla rotellina ma se noi rimaniamo su moriamo no no ci butta giù guarda che ti butta giù guarda che ti butta giù guarda che ti butta giù ok oh spawn ha un free perk ragazzi avete tutti quattro perk io sì io sì io sì mi stanno tirando giù vai vai prendi prendi aspetta che deve buttarmi giù l'acqua perchè adesso magari lo spawn qua su poi ci butta giù maledetto un po' di merda che mi aveva fatto bloccare il ciaone perk deve sta per arrivare il momento sta per arrivare il momento sta per arrivare il momento oddio sei venuto era molto inquietante questa cena il quick ama il quick ama a voi eee double tap beh dai oh ma dai mi sa la stai pagando un casino ma che cazzo è ho visto adesso è tolotta posto tra l'altro i più accenti avranno notato che le trappole quelle non si attivano non si attivano esatto ho notato anche io infatti perché era una roba che odiavo di più no esatto allora ci sono zombie fermi in piedi qua è un notato è un bug guarda 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 questi tipo sembra che abbiano tipo la gabble gun quella che li rallenta si ma poi ci passi vicino e alcuni si sblocca e ti guardano male si ti guardano male poi si sblocca ma c'è lo zoom in lapa ho rischiato saldi saldi cazzo porca puttana sono lontano dalle casse comunque sono invincibili al momento abbastanza invincibili anch'io lo sono messo male tanto salta per una volta deve tu devi smettere di fare partite buone su cotto ultimamente quanto sono forte sal non puoi capire ultimamente mi sta facendo partite boh no no ma ho notato la cosa guarda varied eccetera guarda varied è diventato un tormentone guarda varied però ho visto già il tormentone dell'inverno posso immaginare hashtag guarda varied infatti ora lo vado a guardare infatti l'altro giorno entro su discord e c'era veramente la partita linkata di varied ah la gente curiosa che poi è andata a guardare varied infatti ho visto prima stavo scorrendo sopra e c'era la partita linkata ho detto what the fuck eh perché qua bisogna sempre far capire qua chi comanda chi è il più forte ok comunque dobbiamo costruire lo scudo sal scendo si porca troia mi sta narrando male scendo a costruire lo scudo lo costruisco io vai che sono un po' in difficoltà che cazzo di arma è questa qua double tap ok sto arrivando scendo con la cascata scendo with the cascated il maverick raga ok saldi bellissimo il maverick attento che ci sono un po' di zombie madonna via guarda che bello il ah raga ricordatevi che io ho le scimmie eh beh guardami il dietro scusa se ho sal non pensavo potessi nascondere con questa potenza dove dove ah to the double tap to the inside the double tap on the table che cazzo this shield is on the table aspetta dove è il double tap qua dietro a qua qua vicino wow ragazzi black ops 1 eh io dico solo questo poi i personaggi di five va anche in questa mappa c'è che è vero infatti in un tratto di oscencio tutto un insieme capisci è il prologo di dei personaggi di five che vanno in giro per le mappe certo payday l'onda anche a me io ho usato una bibita ma non da caramella ma non so cosa ragazzi soldi per tutti grazie thank you very much ah vi dovete una cena al sushi bella madonna sono onesto nei prezzi vero Debo per quattro puntini di merda eh ma faccio la persona onesta nei prezzi io guarda sei un cazzo di veneto approfittatore di merda vero buongiornissimo caffè ma aspetta cena al sushi dove puoi prendere tutto quello che vuoi lo look and eat si dai 20 euro ah vabbè allora non è cioè mi ha dato 10 mila no 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 fanculo andiamo a pranzo a pranzo ok con questa nata però l'hai detto eh mi offri il pranzo al sushi eh si beh tanto ora che ci vediamo tu poi il caffè a Jimbo gliel'hai offerto con le donazioni no tu pensi Debe che io mi dimenticherò bravo bravo ma noi veneti non dimentichiamo niente soprattutto quando si tratta di soldi perché avete un cazzo di braccio d'occolto quando c'è un di apposentare della gente oh guarda che brava la Carolina io ho detto che dovevo registrare e non mi ha cagato più il cazzo che brava che madonna ah sta crescendo bene perché io ti faccio le gabble che mi devi arrivare oh raga io sono un po' corto diciamo che il mio problema sono le munizioni per il resto e lo scudo mi ha già spaccato il mio problema continuo sono le munizioni eh le finisco con una velocità impressionante poi ho tappo tappo te lo dico Sal il tavolo da lavoro qua dove hai costruito lo scudo bugga le granate a lato ah eh ma mi sa che non sono prendibili ah non sono prendibili di loro secondo te ah boh si le hanno disattivate grazie ero senza colpi le scimmie non le ho mai praticamente usate io ero senza colpi io solo una volta ma quel 20 in basso a destra sullo scudo sono tipo il numero di colpi che gli zombie possono darmi eh sai che non lo so oh si 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 confermo conferma è quello figata è tipo il numero di colpi che lo zombie può dare la vita dell'oscuro quello in basso a destra la vita dell'oscuro l'ora e poi uso solo il motore qua di il motore uso il motore qua il motore il motore il motore allora ce la dire che se i zombie sono vicini non spreco un cazzo il problema è che però me li attira addosso anche eh si eh si e ti hanno tolto lo scudo lo scudo dura poco eh ve lo dico si si eh si ok posso anche andare a riprendere se mi ricordo dov'è madonna ragazzi che mappa questo è ragazzi stiamo arando tutto qua eh stiamo arando tutto e ricordatevi che c'è anche premi tab premi ok sto prendendo tab vedo e ricordatevi metti un peso su tab così continui a guardarlo coglione cosa ti rendi conto coglione e ricordatevi che c'è anche un easter egg sotto che madonna di dio vogliamo portarvi perché porca eh si eh però bisognerebbe leggere tutti gli steps eh ti dirò guarda che eravamo messi talmente bene che ci stava eh eh ma siamo già a round alto secondo me no no ma infatti non è fattibile dobbiamo prenderla molto con calma capire già cosa fare dall'inizio organizzarci la partita un po' come facciamo con gli strada 3ers perché il livello di difficoltà si si no è veramente paragonabile eh ragazzi è paragonabile infatti davvero si si sono decisamente sorpresi doppi punti doppi punti comunque c'era anche un modo su black ops 2 di giocare ma ha stato ancora registrando si sono ancora registrando e tu sarebbe lo cazzo di ma l'alve buon jimbo alle 11 e 20 tu sei ancora davanti al computer non ci credo non sta a dirmi lo so alle 11 e 20 un mod che è la svolta jimbo ma quindi come si dice si è in effetti non ho ancora molto tempo avrò 10 minuti probabilmente però un quarto d'ora 20 ecco perché non facciamo tutto no ma è impossibile fare di strada no no ma anche volendo anche volendo non è una cosa riuscita è inutile zombie che ripeti le cose di sal solo perché sal è più intelligente di te hai finito di cagare il cazzo il mio posto è magari ci lascia registrare per esempio e mi crea un mio discord eh Anarchia Anarchia subito nuovo discord ciao jimbo coglioni tutti tra le salle attenzione 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 come si permette sto scoccio ah ovviamente a darci piace il cazzo il santo ah cosa ma mi è esploso lo zombie all'appo a me addosso e che sega hai fenice? no cercare un fenice nelle gabogan cercate un fenice in extremis ragazzi no e non c'è due punti 7.500 Debe cerca un fenice Debe c'hai 42.000 punti porca troia cercolo ma qualcuno intanto sa ga lo spawn per animarmi eh sto arrivando Debe cerca un fenice dalle gabogan per favore eh 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 non mi fa prendere le caramelle come no Non mi fa prendere No raga non ditemi che scompagio eh no 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 Tu sai che è giocata il più forte del mondo è qua con te E iPhones e guarda eh sono io anch'io given ho visto? Come sono counsel anche io raga rag Steven Aspetta raga raga fermi Nobè Ma tranquilli eh no 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 Lagga oltretutto cosa sto lag Debe Colpa tua Sembra di farlo a posta e fu come sto torno in vita e inizioi a laggare Sono sicuro adesso adesso ti vengo addosso guarda No ragazzi Non asciugna dire una scimmia accompagnatemi dal E lanci una anche io vai ciao Accompagnatemi un po dal gioco per favore e va bene subito lì dopo Però è un po' un problema ok c'è due volte a terra Ebbene se c'è le scimmie vai ce l'ha c'era le scimmie dove devi andare ma non a posto fatto fatto Ai che non lo scudo lo prendo io l'ho appena preso a me me l'hanno distrutto ok ho trovato Immolazione liquida cos'è notfall o i saldi posso sponare mi servono vero si Ho trovato le gambe grande lì con istakill Tutti i saldi per voi ragazzi Qui non so se si attivano come subito uno dopo l'altro però Beh penso di sì penso sia come su madonna il lag penso che sia come su Ma quale lag che pinghi 70 No no ogni tanto tira di quelli scatti E' il tuo pc che fa cacare Ragazzi ho trovato la jet gun nella cassa Davvero si guarda a sto punto la voglio anch'io Debe salmi stami un po' con me che mi riprendo i perk E cambio anche le armi perchè sono un po' Ma la jet gun è fortissima Eh bisogna saperlo usare però Il problema è che C'è anche la striscia che ti dice tipo la Ah ti dice anche proprio E' la barra che ti dice per quanto esplode Ma provi vedere se esplode perchè secondo me non esplode neanche Non lo so potrei provare però c'ho 5 perk quindi non provo Beh ma non dovresti morire se esplode o morire Eh lo so però non so se magari qua l'hanno modificato Guarda quanti saldi cioè Quanti saldi sei sono infiniti Quanti saldi Quanti saldi Dai vediamo se la trovo anch'io Eh non so se tutte e due possano Eh dici che sia tipo una della cassa e una costruita Ah buon darci Effettivamente potrebbe essere Dovrei andare a prendere la Lo scudo io Potrebbe essere Passarround ok faccio Eh beh tranquillo c'ho solo il ballista Guarda mi sto muovendo con la jet gun Non c'ho bisogno di usare i tasti Io te lo dico c'ho soltanto cioè Ho il ballista e un'arma senza colpi Ah no ma questo è lo scar mi sa Ma si ma tanto sei scarso Sei scarso Bravo bravo Scarso Oh ho trovato il rampicamuri Cosa fa il rampicamuri? Potenzia un'arma all'armatina E' quello che hai fatto all'inizio Lascialo perdere sal è ritardato Coglione per in tab Guarda Barriere Guarda l'ultimo custom Guarda tutte le tue ultime partite insomma Guarda tutti i video di zombie Qua sui video di zombie c'è scritto Debe Mettate il respiro Filtro Debe nel titolo Dove c'è Debe? Se c'è Debe nel titolo è un bel video Mamma che bello Dove c'è Debe c'è qualità Brava Wall power Sal Eh a rampicamuri anche tu Ah ok adesso trovo allora un'arma forte Il balista direi che non è il caso di potenziarlo Oh ma è fortissimo Comunque è bello Oh ma quindi Debe ce l'hai anche tu quella Ho capito che l'avevi tirata via No 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 l'ho tenuta perché è una bomba Allora forse si dai Mirko Ho capito che Debe non l'aveva nulla Sì è bellissimo il rombone in mano che risucchia No sto morendo raga Muoio 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 Muoioio non ci posso credere Dio boni devo andare sempre a salvare queste persone Non ci posso credere Sono rimasto incastrato nell'angolino Dove sei? Sono giù verso la cascata dove prima vi ho dato la spinta Avete presente Coglione Sono lì vicino alla corrente insomma Ok allora ho sbagliato strada Sti giochi Eccoti qua Sal Bravo grazie Faccio lo zombie Bravo Sal che fai tu perché io non so dove cazzo sono Accompagnami la jug per favore giusto nel momento No vi do una mano Grazie No grazie Eh guarda adesso senza avere le armi giuste sta iniziando a diventare L'ho vista me l'ho vista brutta Ma che cazzo Sta iniziando a diventare pericoloso Ho trovato la caramela dei saldi se volete Guarda aspetta un attimo E poi puoi chiamarla Mirko ti do Ce la fai? Pure Sì io stavo cercando di potenziare la rampica muri ma perché non funziona? Mi si è buggata non mi fa chiamarla Gabogam No ma non la devi chiamare devi comprare l'arma al muro Devi comprare l'arma al muro è ragione Basta che compri l'arma al muro è basta Eh sì eh sì Eh Sal è un coglione Non sa di niente Pensavo di poter potenziare l'arma che avevo in mano ok? Per favore Eh troppo facile Quante cagate che dice Sal è per favore un coglione Ma sal è per favore un coglione Non è che coglione non se lo ricordava dai ci sta Dai non me lo ricordavo Ho avuto gli esami non ho non ho studiato Cioè ho studiato e non mi sono lasciato un po' Non ho studiato zombie ok? Non ho studiato zombie ok? Non ho studiato zombie ok? Non ho studiato il manuale ultimo che Ultime team zombie Che ho consigliato dal Eh eh Buongiorno ragazzi Caffè Caffè Ma eh Servono altri pezzi C'è altri pezzi da Salud Antonio No pezzi dovremmo averli tutti ti dico eh Ti dico No abbiamo tutto di tutto Abbiamo tutto di tutto ragazzi No ragazzi Urlatore contro jet gun Non potete capire Madonna penso che l'hai tipo Shottato Comunque è qua L'ho shotto io con la mia arma paga avanciata Sal non muore Sal Non è morto Non è morto Mi ho sparato un caricatore in testa all'urlante Non è morto È morto Ok perfetto È già su tua testa È un zombie tutto incazzato che ti viene a urlare in faccia Esatto